Sali qui sull'arca, vieni anche tu, ma che avventura, qui o ecco noi. Giorno un naso, mangio, gioco, panno, penso, leggo un poco, mangio, gioco, penso. Ma il tempo no, il tempo no, il tempo non passa mai. Ma allora quanto mangi? Ancora ce ne vuole. Sali qui sull'arca, vieni anche tu, ma che avventura, qui o ecco noi. Ciao bambini, vi ricordate di me? Sono Giuliana. Vi ricordate di cosa stavamo parlando? Vogliamo riuscire a scoprire quali comandamenti sono importanti per tutti i tempi e ovunque sulla Terra. E perché Dio li ha ideati? Quanti sono? Avete ragione, sì, sono dieci. I dieci comandamenti. Certo è pazzesco che Dio abbia fatto soltanto dieci comandamenti, non trovate? Ci vogliono solo dieci secondi per contare fino a dieci. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ma come sono questi dieci comandamenti? In realtà chiunque vive su questa Terra dovrebbe conoscerli a memoria. Ci spiegano come possiamo vivere con Dio, con gli altri e con noi stessi. Oggi è la volta del secondo comandamento. Vi ricordate il primo? Onora Dio come il tuo unico Dio. E adesso il secondo. Non farti nessuna immagine di Dio per adorarla. Si tratta di nuovo di Dio. Vi sembra strano? Per Dio è molto importante che lo vediamo nella giusta maniera. Lui non vorrebbe, per esempio, che lo facessimo diventare come una mascotte o un portafortuna. Una mascotte può essere un peluche, una decalcomania, una figurina illustrata o un portachiavi. Vorreste rappresentare il Dio come un portachiavi che appendete all'astuccio, allo zaino, o nella vostra camera. Dio non è un oggetto. Non ha nessuna delle cose che possiamo fare noi o comprare. Lui è così grande che non riusciamo a comprenderlo con il nostro cervello. In fin dei conti, Lui abita già nel Regno dei Cieli. È onnipotente e ha creato questa terra. Adesso, senza far rumore, ascoltiamo di nuovo gli animali sull'arca per sentire se anche loro hanno avuto dei problemi a considerare Dio nella maniera giusta, oppure se hanno a volte preferito avere Dio come un amuleto. Che cos'è? È una cosa pazzesca! L'ho trovato dalla signora Noè. Un bastone, un bastone colorato, o magari un tubo, oppure un rotolo. Bravo! Giochi con me! Ci si può anche nascondere qualcosa dentro. Ma che cos'hai lì? Oh! Guarda, guarda, che cosa strana! Oh, mamma! Oh! Questa cosa possiede forze miracolose! Adesso il bastone ha un tetto colorato! Ah! Lo chiamerò ombrello! È proprio una forza! Ah! Che bello! Oh! È una cosa bellissima! Sì! Questo ombrello è divino! È l'ombrello dell'Altissimo! Wow! Questo ombrello è semplicemente meraviglioso! Ci possiamo giocare? Sentimi bene! Con Dio non si può certo giocare, ma con questo ombrello si può sopravvivere a ogni diluvio! Oh! Questo è Dio, allora! Appare così, come un bel cielo! Lucente e variopinto! Come la tua palla! Sì, certo, giusto! Lui è colorato come la mia palla, quindi anche la mia palla è divina! Sai che ti dico? Credo già di amare questo ombrello! Noi lo dobbiamo semplicemente adorare! Esatto! Giusto! Se lo si capovolge, si può anche salirci su e navigare come su una piccola arca! Bravo! Oh! Anche il signor Noè ne è entusiasta! Forse dovrei scriverci sopra Dio, così tutti gli animali lo loderebbero e lo glorificherebbero! Ehi! Porta via questo oggetto stupido! Voglio godermi il caos e la pioggia qui fuori! Senti, Croco, questa non è una cosa qualunque! Questo è Dio! Ciocchezze! Dio appare in tutt'altra maniera! Come allora? È verde, ha denti taglienti e grandi occhioni! No, no! Già mai! Dio è freddo e luccica! Ed è tutto bianco, come la neve! Wow! Scemenze! Dio è colorato, come la mia palla! E protegge dalla pioggia! Perciò questa cosa qui è un'immagine di Dio! Ah ah! E come faresti a saperlo tu? Dio ha mandato la pioggia o no? Quindi lui è un Dio perché ha a che fare con la pioggia! È un ombrello e una sua bella immagine! E poi è scritto nella Bibbia Chi sede sotto l'ombrello dell'Altissimo non si bagnerà! Ma io non voglio sedermi sotto un ombrello! Voglio godermi la pioggia! Non mi importa! Anche tu devi adorare questo Dio ombrello! Che dici? Io preferirei adorare un gelato al limone! Ma sta zitto Timmy! Sei proprio un ingenuo! Tu... No, io non sono un ingenuo! Devi imparare a masticare la religione giusta! Miam miam miam! Ascoltandovi, ci si vergogna proprio ad appartenere alla creazione! Dio ha un ombrello! Ah, voi non avete la più pallida idea di Dio! Non bisogna farsi nessuna immagine di Dio! Mai! Lui è inimmaginabile! Wow, davvero? Sì, certo! Tu, pensa a fare la farfalla! La farfalla sciocca! Ieri eri ancora un grosso bruco! Tu non hai nessuna idea! Sì, eh! Io so che ci sono delle cose che non si vedono e che ci sono di sicuro! E non si possono immaginare finché non le vediamo! Guardami! Ieri ero un bruco! Oggi sono una farfalla! E allora non si può vedere questo come Dio ombrello? Io l'ho scoperto e vorrei che tutti voi lo adoraste! Bravo! Ti prego! Lasciaci giocare! Invece di fare sempre soltanto religione! Dio è certamente verde! No, Dio è bianco! No, Dio è vario pinto! E basta! No, Dio è Dio! Non lo si può descrivere o gestire come si vuole! Tutti gli animali che iniziano con la A al controllo sanitario! Ma Dio ha preso in affitto il signor Noè! E parla sempre soltanto con lui! Questo non è giusto, ecco! Sì, ma vedi, mio caro amico! Forse per parlare personalmente con Dio bisogna avere almeno 600 anni! Io invece ho soltanto un anno! Capisci? Hai solo un anno? Sì! Oh, io invece credo di averne uno, due, tre anni! Sì, penso di... Io ho 15 anni e vi dico, Dio è verde! Ha denti affilati e grandi occhi! Ma che sciocchezze! Forse Dio vede persino come il signor Noè! Dio abita in cielo! E nessuno lo può vedere! Uffa, Dio è verde! Dimostrami il contrario! Ah, ma la vuoi smettere di insistere così tanto, Croco? Piuttosto, gente, fate attenzione! Io sono l'ARP! A-A-R-P! Che cos'è A-A-R-P? A-A-R-P è arca, avventura, risolvi, problema! Perciò io suggerisco, proviamo a votare e vince la maggioranza! Allora, chi è per il verde? Io! No! Chi è per il bianco? Io, io, io! Chi è per il colorato? Sono io, sono io! E per ultimo, chi è per invisibile? Sono io, sono io! Ok! Ma qui c'è un pareggio! Cosa facciamo adesso? Giochiamo a qualcosa di bello! Forse gli animali così non si arrabbiano! Posso fare una domanda? Da dove viene veramente questo ombrello? Io l'ho, l'ho, l'ho trovato! Ecco, sì, l'ho trovato! Trovato? È arrivato... Vuotando o sarà semplicemente caduto dal cielo? No, no, l'ho trovato! No, no, ma no! Era semplicemente qui in giro, nell'armadio della signora Noè! Se era nell'armadio della signora Noè, allora ti sei introdotto in un territorio straniero! Ciò che è nell'armadio è di sua proprietà! E cos'è la proprietà? Questa bella arca è il mio territorio! Quindi voi siete tutti di mia proprietà! Tutto ciò che appartiene a qualcuno è la sua proprietà e l'ombrello appartiene alla signora Noè! Bravo! Devi restituire immediatamente l'ombrello! In caso contrario ci sono problemi! Se lo viene a sapere il cane Cesare, quello è capace di denunciare subito che hai rubato l'ombrello! Ma l'ombrello è così bello! Sembra come la mia palla! Lui è divino! E Dio è lì per tutti! Lo ha detto il signor Noè! Non hai mai pensato che si tratta di un ombrello da donna e che serve a proteggere i capelli dalla pioggia? Wow! Un ombrello per una donna! Un ombrello da donna! Pensi che Dio si occupi solo dei capelli di una donna? Che cosa? State dicendo che è un ombrello da donna? Non è vero! Non può essere vero! Mamma mia! Un ombrello da donna! Non ci posso credere! Lo vedi anche tu? Un ombrello per non far bagnare i capelli! Ridicolo! Ridicolo! E ho pensato che questo fosse Dio! Bravo! Lo vedi? Anche tu sei un vero ingenuo scimmia! Tutti voi siete degli ingenui! Dio è verde! L'arca è il mio territorio! Fine! Punto! E basta! Bravo! Penso che la moglie di Noè stia cercando il suo ombrello! Con permesso vado a metterlo subito a posto nel suo armadio! Avete visto? Tutta questa storia dell'ombrello era una vera sciocchezza! Avete capito? Dio è invisibile a tutti! E io dico che è verde! Farfalla! Ti va di giocare con me? Naturalmente piccolo orso polare! Che bello! A cosa vogliamo giocare? Ok Timmy! Potremmo giocare insieme a... Io vedo quello che tu non vedi! Oh sì! Io vedo! Vedo qualcosa che... Vediamo un po', vediamo... Io vedo che è tutto quanto soltanto verde! Verde, verde... Ah! Verde! Io direi che è... Un allegatore burbero con gli occhi spalancati e un po' pallone gonfiato! Ma... Ho indovinato! Prova da poppanti! Basta, mi ritiro! Su, piccolo orso polare! Che cosa ne dici se andiamo dentro l'arca? Sono proprio congelata! Veramente? Io non sento per niente freddo! Ma se hai bisogno di stare al caldo... Andiamo pure dentro come dici tu! Va bene? Sì! Ok! Dio un ombrello, vi sembra possibile? Sapete, a me non sembra proprio! Come si fa a pensare che questo semplice ombrello possa rappresentare la grandezza di Dio? Ma anche noi esseri umani ci domandiamo spesso come è Dio o come può essere e chi è che lo conosce meglio? Chi può rispondere? C'è chi la pensa in un modo e chi in un altro. E così ci sono tante persone che ne discutono. Qui, su questa nostra terra, ci sono sempre più dispute, talvolta perfino delle guerre. E trovo che tutto questo sia davvero un peccato. Dovremmo tutti vivere pacificamente su questa terra meravigliosa e non metterci contro Dio. Ognuno purtroppo rappresenta Dio a modo suo, sempre in un modo diverso, ma nessuno sa, nessuno lo conosce veramente perché nessuno lo ha visto. Dio rimane un mistero, un grande, affascinante mistero. Io amo i misteri, e voi? Sono qui sull'arca, vieni anche tu, ma che avventura, Dio ecco noi. Con un naso, un mangio, un gioco, un panno, penso, leggo un poco. Io mangio, un gioco, un panno, penso, ma il tempo no, il tempo no, il tempo no, il tempo non passa mai. Allora, quanto mangi? Ancora ce ne vuole. Sali qui su l'arca, vieni anche tu, ma che avventura, Dio ecco noi. Con un naso, un mangio, un panno, penso, leggo un poco. Con un mangio, un gioco, penso, ma il tempo no, il tempo no, il tempo non passa mai.